Il mondo degli umani sta finendo. Tra le fiamme del Monte Fato, un remingo e uno spettro, uniti nella morte, hanno forgiato l'unica cosa che può mettere in difficoltà Sauron. Un anello del potere. Ma il potere può accecare Chilobrama. Cenebrimbor! Il grande ingannatore è tornato nella terra di mezzo per ricostruire le sue armate e dominare su tutto. La corruzione sarà incontenibile. La guerra di Mordor ha inizio. Spettro! 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 Grazie a tutti.